L'avete studiato bene, no? No, l'ha fatto il nostro governo, l'interesse del Paese. Cioè andare a votare l'interesse del Paese più che avere Draghi al governo? No, piuttosto che avere il governo Draghi sorretto da lì, 5 stelle a giorni eterni, con ciascuno che porta avanti le proprie banderie, non lo fa più a te. Ma basta, adesso basta. Grazie. Uffoni. Uffoni. Vai cazzo. Uffoni.